Musica Aumentano i positivi da Covid in Sicilia, la variante Omicron comincia a diffondersi nell'isola, fondamentale la terza dose di vaccino. Mafia e pizzo sulla formazione professionale, sequestrati beni per 2 milioni e mezzo, un imprenditore di Alcamo arrestato nel 2016. In arrivo dal PNRR, 196 milioni di euro per i comuni della città metropolitana di Palermo, lo ha comunicato Orlando agli enti locali. Tante le prelibatezze siciliane tra cui scegliere per le festività, a fine pasto la cassata siciliana vince su Panettone e Pandoro. E' stato girato in primavera a Palermo il primo lungometraggio del regista Guglielmo Brancato, tra i protagonisti tutti attori emergenti siciliani. Benvenuti alla prima edizione del TG Media News di sabato 25 dicembre. Abbiamo sentito i titoli, aumentano i positivi da Covid in Sicilia, la variante Omicron comincia a diffondersi nell'isola, fondamentale la terza dose di vaccino per arginare i contagi. Vediamo il servizio. Abbiamo un aumento dovuto all'arrivo della variante Omicron perché comincia a essere presente. In Sicilia meno che nel nord, ma semplicemente perché siamo in ritardo, non perché siamo particolarmente bravi. È solo un ritardo della diffusione della variante. I dati comunque vanno sempre letti con un'opportuna prudenza e quello che conta in questo momento sono soprattutto gli ospedali e le terapie intensive, le quali stanno crescendo, ma il dato statistico interessante è che stanno crescendo molto più lentamente rispetto ai positivi. Questo già è stato evidenziato, comincia a essere evidenziato in una serie di studi, sia in Inghilterra che in Israele che negli Stati Uniti, per cui sembrerebbe che la variante Omicron sia una variante più buona, diciamo così. Quindi se questo dato è confermato, la diffusione della variante Omicron non è una cattiva notizia, ma potrebbe essere una buona notizia sul medio termine. Nel senso che la diffusione di una variante più leggera dal punto di vista clinico può consentire di avviare l'uscita dalla pandemia. Dobbiamo però essere chiediti relativamente a un altro problema. Questo virus non andrà via, si trasformerà e andremo verso quello di cui anche abbiamo parlato qualche settimana fa, che è la endemizzazione di questa malattia. Dovremmo adattarci e vivere, adeguare i nostri sistemi igienico-sanitari, i nostri ospedali, per vivere con questo virus ancora per parecchie ore. Per concludere, la terza dose è a suo punto di vista fondamentale anche per contrastare l'ulteriore diffondersi di questa variante? Assolutamente sì, clinicamente questo è già dimostrato. I tripli vaccinati praticamente non hanno alcun tipo di effetto, se non un'infezione molto leggera, quasi asintomatica. Infatti l'aumento dei positivi attuali probabilmente è dovuto al fatto che molti vaccinati si stanno testando, vengono fuori queste positività sostanzialmente asintomatiche. Ancora Covid. Antonio Cascio, infettivologo ordinario alla Facoltà di Medicina del Policlinico di Palermo, invita alla prudenza in occasione delle feste natalizie a seguito del diffondersi della variante Omicron. Non ci sono dati certi sulla gravità di questa variante, ma bisogna ugualmente stare attenti e proteggere le persone anziane e soggetti fragili. Prudenza, tanta prudenza. Purtroppo la variante Omicron si sta diffondendo sempre più in Italia e diventerà la variante prevalente. Nonostante inizialmente si pensava che questa variante fosse associata a forme cliniche più leggere di Covid, in realtà i dati non sono molto solidi, non sono ancora molto certi e la gravità potrebbe essere identica a quella provocata dall'attuale variante Delta. Quindi l'attenzione deve essere altissima. E allora, cosa dobbiamo fare per i prossimi giorni? Massima attenzione e prudenza. Ricordiamoci di indossare la mascherina soprattutto quando siamo in posti affollati. Stiamo molto attenti ai nostri parenti anziani. Proteggiamoli, teniamoli lontani dal più possibile e da possibili fonti di contagio. Ricordiamo come le persone anziane, pur essendo vaccinate, potrebbero non aver risposto in maniera adeguata al vaccino e quindi di fatto sono suscettibili all'infezione. Quindi, attenzione, ricordiamo di far somministrare la terza dose il più presto possibile a tutte le persone che ancora non l'hanno avuta somministrata e soprattutto chi ancora non ha fatto il vaccino lo vada a fare ricorso. Covid in Sicilia, altri sei comuni in zona arancione. A stabilirlo un'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana valida fino a venerdì 31 dicembre compreso. Da oggi entrano in zona arancione i comuni di Butera in provincia di Caltanissetta, Barcellona Pozzo di Gotto, Fiume di Nisi, Gualtieri Sicaminò, Milazzo e San Filippo del Mela in provincia di Messina. Le restrizioni saranno valide fino a venerdì 31 dicembre compreso. Lo prevede l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del Dipartimento regionale Asoe. La decisione è stata presa dopo l'aumento dei contagi avvenuti negli ultimi giorni. Ieri a Milazzo altri 13 soggetti sono risultati positivi. Nella città Mamertina sono 249 le persone attualmente positive. Il rischio è che i numeri possano crescere ancora, visto che i risultati dei tamponi molecolari eseguiti presso le postazioni dell'USCA arrivano a singhiozzo e non sempre in maniera tempestiva. E contestualmente anche il numero di persone che sottopone a verifica dopo un tampone rapido positivo è in costante ascesa, una situazione che ovviamente accresce i timori. Le misure restrittive anti-Covid sono attualmente in vigore fino al 27 dicembre prossimo, anche a Castro Filippo in provincia di Agrigento, Marianopoli in provincia di Celtanissetta, Motta Sant'Anastasia in provincia di Catania, Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea, sempre nel Messinese. Secondo i dati forniti dalla Fondazione Gimbe nella settimana dal 15 al 21 dicembre, c'è stato un aumento dei nuovi casi pari al 42,1% rispetto alla settimana precedente. Cambiamo argomento, mafia e pizzo sulla formazione professionale, sequestrati beni per 2 milioni e mezzo a un imprenditore di Alcamo arrestato nel 2016. La DIA e il nucleo PEF della Guardia di Finanza di Trapani hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro bene anticipato e messo alla sezione misure di prevenzione del Tribunale nei confronti di un imprenditore operante nel settore degli appalti pubblici e della formazione professionale. Il Tribunale, a seguito delle risultanze d'indagine e corroborate anche dall'importante contributo di alcuni collaboratori di giustizia, ha ritenuto sussistere un adeguato compendio indiziario che ha consentito di accertare a carico dell'imprenditore un giudizio di pericolosità sociale di tipo qualificato, includendo lo stesso nella categoria degli indiziati appartenente all'associazione di tipo mafioso di cui è l'articolo 416b del Codice Penale. L'ampio ed eterogeneo contesto indiziario ha consentito di riconoscere l'imprenditore quale dominus di un sodalizio criminoso idoneo al conseguimento di illeciti profitti derivanti da finanziamenti pubblici previsti in favore della formazione professionale e da pubbliche erogazioni ottenute grazie alla commissione di truffe ed illecite distrazioni patrimoniali poste in essere con la rete di società da lui gestite. In particolare, in sede investigativa erano state ricostruite alcune aggiudicazioni pubbliche a seguito delle quali doveva essere versata alla famiglia mafiosa di riferimento una percentuale fissa del 2% rispetto al prezzo corrisposto dall'ente pubblico. Per queste ipotesi di reato, nel maggio del 2016 era stato arrestato e rinviato a giudizio. Tre beni sottoposti a sequestro del valore complessivo stimato in circa 2 milioni e mezzo di euro, sei compendi aziendali operanti al settore della formazione professionale e dile del commercio, il 50% delle quote di una società immobiliare, quattro immobili e sei rapporti finanziari. In arrivo dal PNRR 196 milioni di euro per i comuni della città metropolitana di Palermo. L'ha annunciato il sindaco della città metropolitana agli enti locali. Sentiamo. Il sindaco metropolitano Leoluco Orlando ha comunicato a tutti gli enti locali della provincia di Palermo che è partito il conto alla rovescia per preparare e trasmettere i progetti delle municipalità al fine di chiederne il finanziamento. Per i comuni della città metropolitana sono infatti in arrivo dal PNRR 196 milioni di euro. I progetti verranno selezionati sulla scorta dell'indice di disagio materiale sociale del Comune proponente, verificati la strategicità e la sostenibilità economica e ambientale dell'intervento, oltre l'impegno a collodare le opere entro marzo 2026. Nel dettaglio, una volta ricevuti i progetti, la città metropolitana li selezionerà e formerà uno o più piani integrati strategici al fine di favorire una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado, promuovendo la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alla Smart Cities, con particolare riferimento ai trasporti e al consumo energetico. Per trasmettere i progetti alla città metropolitana ci sarà tempo fino al 21 gennaio 2022. In questa fase sarà sufficiente un progetto di fattibilità, l'ente supporterà i comuni, nella presentazione delle proposte tramite il nuovo ufficio staff PNRR, formato con le professionalità provenienti dal concorso Sud. Si tratta della prima occasione che ci offre il PNRR, dichiara Orlando, una possibilità concreta per promuovere un'autentica rigenerazione urbana, finalizzata al miglioramento di ampie aree urbane, degradate alla rivitalizzazione economica, allo scopo di trasformare territori metropolitani vulnerabili in territori efficienti, sostenibili e produttivi. Si tratta di una sfida importante a cui i nostri comuni e la città metropolitana sono chiamati a rispondere con il massimo impegno e con adeguate competenze. Confindustria parte civile nel processo contro gli abusi nella struttura per malati psichiatrici di Castelbuono. Lo ha dichiarato Francesco Ruggeri, presidente regionale del comparto strutture sociosanitarie. Sentiamo. Presa di posizione di Confindustria Sicilia riguardo alla gravissima vicenda che si è verificata nella struttura per malati psichiatrici di Castelbuono. Ad annunciare che il comparto regionale delle strutture sociosanitarie si costituirà parte civile al processo sui abusi e i maltrattamenti nella struttura in provincia di Palermo e Francesco Ruggeri, presidente regionale, strutture sociosanitarie. Assistiamo per l'ennesima volta a crimini contro la persona che vanno sanzionati duramente, con decisione e determinazione, inizia a spiegare Ruggeri. Il caso di Castelbuono ripropone un ventaglio di temi relativi all'assistenza verso i soggetti fragili, temi tutti trattati sul tavolo di un dialogo con le istituzioni di governo. Il primo appena risolto favorevolmente è quello della videosorveglianza nelle strutture sociosanitarie. Noi abbiamo ripetutamente richiesto l'obbligatorietà dei sistemi di videosorveglianza nelle aree comuni. Adesso, prosegue Ruggeri, la nostra richiesta è stata accolta. Diventerà obbligatoria l'installazione delle telecamere negli spazi comuni nelle strutture sociosanitarie. Un'altra importante istanza è quella di un codice etico per le strutture sociosanitarie. Confindustria Sicilia lavorerà alla redazione di un proprio codice etico per le imprese associate al sistema. È necessario dare un nuovo impulso al settore sociosanitario, che risponda sempre più ai requisiti di efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini. Allo studio del comparto regionale sociosanitario, infine la somministrazione di test attiluniali psicofisici periodici da somministrare ai dipendenti delle nostre aziende associate. Pomeriggio da incubo, quello di ieri per gli automobilisti palermitani bloccati per ore in via alle regioni siciliana. Traffico paralizzato sul ponte Corleone a seguito della nuova viabilità e dei limiti di velocità che hanno mandato in tilt il flusso delle auto. Ripercursioni su tutta la città. Vediamo il servizio. Continua l'incubo traffico per i palermitani, una situazione aggravata dalle festività natalizie che hanno comportato un aumento delle persone in auto per comprare gli ultimi regali, sbrigare commissioni o per andare semplicemente al lavoro. Un clima di festa rovinato però non solo dalla minaccia del coronavirus ma anche dalla trappola del traffico. Il protagonista è sempre il ponte Corleone dove la scorsa notte gli operai dell'ANAS hanno lavorato per piazzare New Jersey in cemento lungo la corsia lato carcere Paiarelli del ponte che collega la circonvallazione di Palermo con l'autostrada e dove è stata posizionata anche la nuova segnaletica stradale che prevede il limite di velocità a 60 km orari. Inevitabilmente il traffico ha subito pesanti ripercussioni, soprattutto in uscita dalla città in direzione Catania. Secondo le nuove modalità, per 250 metri prima e fino a fine ponte, come si legge nell'ordinanza del Comune di Palermo, è stata ridotta la sezione di ciascuna delle due carreggiate in entrambi i sensi di marcia con l'istituzione quindi di un'unica corsia centrale larga 3,50 metri con delineatori invalicabili Guardrail, Cordoli e New Jersey che saranno interrotti per consentire l'accesso e l'uscita nell'area di sosta del Baby Luna e l'uscita del varco di missione nella corsia centrale in direzione Trapani. Da 200 metri e a ogni 50 metri prima dell'accesso nella corsia centrale si legge ancora nell'ordinanza in entrambi i sensi di marcia installati segnali di strettoia simmetrica a 100 metri prima e dopo il ponte in entrambi i sensi di marcia. Infine è stata disposta la chiusura al transito veicolare dei due marciapiedi fino a che non vengono ripristinate le barriere di protezione. A causa quindi della riduzione a una sola corsia sono stati registrati incolonnamenti per chilometri e auto che viaggiavano a Passo Duomo. I disagi alla circolazione si sono registrati in tutta la città in via del Lazio, Corso Caratafimi, via della regione siciliana con tutte le strade limitrofe bloccate. Per tutto il pomeriggio la gente è rimasta incolonnata e intrappolata per ore per superare il tratto di strada all'altezza del carcere Pagliorelli bloccati camion, auto ma anche pullman con inevitabili ritardi. Code si sono registrate anche nella zona del porto, in via Messina Marine fino a Villa Abate, bloccato interamente Corso dei Mille, Piazza Indipendenza, via Ernesto Basile e via Ogalamalfa. Un semaforo ha chiamato in via Roma-Palermo all'altezza del civico 315 è quello che ha chiesto un gruppo di mamme questa mattina. L'attraversamento dal punto di vista del codice stradale è attenzionato per la parte della segna d'etica verticale e orizzontale ignorata però da molti automobilisti. Questa mattina qua in via Roma al civico 315 c'è posizionato l'attraversamento pedonale ma purtroppo le mamme insieme ai bambini che solitamente si regano nella vicina scuola di Patria lamentano che molti conducenti di veicoli vari non si fermano nelle strisce pedonali. I bambini hanno anche fatto un disegno col semaforo chiedono che l'assessore alla mobilità urbana valuti la possibilità di posizionare un semaforo qua a 315 e la letterina di Babbo Natale dei bambini che io chiaramente ho girato all'assessore mobilità urbana. Noi chiediamo un semaforo per i bambini che attraversano la strada per andare a scuola per la sicurezza e la prutenza dei nostri bambini e anche altre persone che vanno a lavorare. A Roma è diventata invivibile per il traffico perché sui semafori non si ferma nessuno e poi le strisce pedonali non le guarda nessuno. Ci sono gli attraversamenti dei bambini per la scuola e non si fermano. Ci sono le persone anziane che vanno alla posta e non si fermano. Abbiamo diverse scuole qui ma nessuno rispetta le strisce pedonali. Quindi cerchiamo di mettere questo semaforo. Chiediamo un semaforo a chiamata perché abbiamo bisogno di avere sicurezza nelle strade per noi e per i nostri bambini. Conferita all'associazione Siciliando la tessera preziosa del mosaico Palermo riconoscimento della città all'impegno di uomini e donne che da anni contribuiscono alla promozione e alla valorizzazione del territorio. Vediamo. L'associazione Siciliando Style ha avuto questo riconoscimento, la tessera preziosa del mosaico Palermo che ci ripaga da sette anni di attività sul territorio, in particolare sul Palermo per la promozione di tante realtà e iniziative che abbiamo svolto qua. E ci sprona chiaramente a continuare sempre su questa lunghezza d'onda. Quindi ringraziamo il Comune e il Sindaco per l'assegnazione anche di questo nuovo riconoscimento. Tra l'altro tutte le attività svolte vengono condivise nella vostra pagina Facebook Siciliando. Una pagina con migliaia di follower seguita in tutto il mondo. Sì, in realtà noi ci esprimiamo tramite un gruppo, appunto Siciliando, tramite un sito www.siciliando.org che è presente sul territorio siciliano, nazionale e anche internazionale. Tra l'altro siamo reduci dall'ultima iniziativa, i Volti di Rosalia, che ha voluto dare lustro a diversi artisti che proprio a Borgo Strafalè hanno presentato queste 30 opere per supportare il Borgo e la rinascita. Questa è una delle attività chiuse recentemente. E invece per il futuro i progetti? Il palinzesto è in fase di rilascio. Partiremo con novità, con iniziative anche nuove che riguardano sempre il territorio. In particolare cureremo alcuni aspetti che riguardano il food. La fattispecie in maniera storica, quindi la storia di, per esempio, in questo caso supportati da Massimo Galli della birra, come ha salvato il mondo nella sua storia. E poi avremo alcuni tour che faremo dedicati anche ai Florio. Quindi ci sono tante novità che stanno uscendo e quest'anno, diversamente dagli altri anni, pubblicheremo un palinzesto tutto l'anno per dare un po' anche più pubblicità alle iniziative prossime. Come ogni anno, questa è la quarta edizione, usciamo fuori col calendario siciliano che quest'anno è stata impreziosita da una fotografia fatta a un'opera di Antonello Blandi come copertina e poi con le 12 foto del team. Abbiamo voluto celebrare non soltanto la quarta edizione, ma abbiamo voluto dare anche una veste sociale al lancio. Cioè, nella Real Fonderia abbiamo coinvolto sia artisti, settore della musica, ma anche del teatro. Abbiamo avuto ospiti di Tamuna, Rosario Terranova, Marcello Mandreucci, Francesca Picciuro, ognuno dei quali abbiamo associato ogni pagina al rilancio del settore teatrale e anche del settore musicale, che in questo momento, come sappiamo, per tutta una serie di vicissitudini legate alla pandemia, è sempre in difficoltà nella ripartenza. Quindi è un segnale che Siciliano dà anche al pubblico di partecipare più attivamente a queste edizioni. Tra le tante prelipatezze siciliane, tra cui scegliere per queste festività, abbiamo chiesto allo chef Gioacchino Sensale cosa preparerebbe per il pranzo di Natale. A fine passo, secondo lo chef, la cassata siciliana vince su Panettone e Pandoro. Sentiamo. Chef Sensale, in base anche alle sue esperienze dell'anno scorso, cosa preparerebbe in un ristorante quest'anno? Beh, sicuramente io rimango sempre fedele a quello che è il mio modo di vedere la cucina. Io rimango sempre legato alla tradizione, al territorio, aggiungendo una buona dose di creatività. Per esempio, quest'anno preparerò dei carnelloni di pesce con una salsa all'acciuga rossa, dell'aglio nero e una bella spolverata di pan grattato tostato. Come secondo? Come secondo, continuiamo col pesce. Quindi avremo una corvina in oliocottura con una mellonese al tartufo, nero siciliano, pienamente, e del porro confì. Il dolce, secondo lei, a Natale qual è? Allora, il dolce per eccellenza a Natale è la cassata. Da fine pasto. Anche quella è immancabile nelle nostre tavole. Poi si può giocare un attimino con le consistenze, però, insomma, la cassata non si tocca. Quindi panettone o pandoro, no? Panettone e pandoro, a mio avviso, non è un dessert da fine pasto. Più che altro, sa, nel pomeriggio, quando ci si annoia un po', o si è stanchi di stare a tavola, e allora un pandoro, un panettone, lo si può assaggiare. Parliamo di spettacolo. È stato girato in primavera a Palermo il primo cortometrato del regista Guglielmo Brancato. Tra i protagonisti, gli attori emergenti siciliani, e adesso la presentazione ufficiale nelle sale cinematografiche. Dopo la morte di mia madre, mio padre ha unito le due figure. E io, a 16 anni, me ne sono scappato. Un dramma psicologico nella Sicilia di oggi. È questo semaforo rosso il primo cortometraggio del regista palermitano Guglielmo Brancato. Il lungometraggio è stato girato in quattro settimane, la scorsa primavera a Palermo, ed adesso presentato al cinema. Sì, il semaforo rosso è stato appena presentato a Ruge et Noir di Palermo, il 22 dicembre. Abbiamo fatto sold out, pianone, in sala Ruge, in sala Noir. Abbiamo potuto accogliere anche l'assessorato al turismo, allo sport e allo spettacolo, che ha concesso un patrocino gratuito. Sono venuti i registi, i cineasti indipendenti. Insomma, abbiamo fatto un pre-natale abbastanza divertente. Adesso ci apprestiamo a presentare il film il 30 dicembre, al Cinema Aurora. Dopodiché avremo delle date a Milano e in altre grandi città d'Italia. Che feedback state ricevendo dal pubblico? Abbiamo ricevuto tante critiche positive e costruttive. Gli è piaciuta moltissimo la fotografia, la musica e parte della regia. Mentre magari qualcosa che è venuto un po' male è stata la sceneggiatura, ma siamo qua per migliorare. Quindi siamo contentissimi di aver avuto un dialogo col pubblico e non vediamo l'ora di fare questa vita. Quali sono i progetti oltre a questo film, semaforo rosso? Abbiamo già iniziato la pre-produzione di un secondo film. Abbiamo fondato un'azienda di produzione e distribuzione cinematografica, la Marte Studios. E con questa vogliamo produrre ovviamente più film e non vediamo l'ora di iniziare un nuovo set. È indiscutibile che si confonda la vita reale con la vita immaginaria. Semaforo rosso narra di continui flashback protagonisti del viaggio eroico di Enea, studente universitario di fisica, che dopo aver perso i genitori decide di vivere in casa della sua fidanzata del liceo, Maria. Quest'ultima, forte della sproporzionata ospitalità, sottomette Enea psicologicamente, costringendola a vivere nel rispetto del suo codice di valori. Si articola così la narrazione delle finte emozioni che recita quotidianamente lo studente e di quelle vere che deve reprimere per rimanere nel suo personaggio, come l'amore per Nadia, ragazza che incontra casualmente davanti un semaforo rosso. Il protagonista, in perenne confusione tra sogno e realtà, metterà in discussione il concetto stesso di libertà, sentendosi incatenato dalla pressione sociale e dei limiti della natura umana, incapace di fargli immaginare un mondo diverso da quello in cui esiste. E certe cose accadono soltanto nel mondo virtuale e altre solamente nel mondo reale. Ma tu non eri cosciente. Parte a gennaio al Cineteatro Colosseum la rassegna Comici dalle gare 2022. Cinque spettacoli di cabaret con artisti provenienti da celebri programmi TV. Dal 14 gennaio al Cineteatro Colosseum di Palermo parte Comici dalle gare. Cinque spettacoli di cabaret, uno al mese, prodotti da Trump Management con artisti provenienti da celebri programmi TV regaleranno al pubblico ore di risate. Ad inaugurare la rassegna venerdì 14 gennaio sarà la comicità del poliedrico artista Maglio Dovì con lo spettacolo Facce Ride Show. Un racconto in anellato di battute su quello che abbiamo vissuto e come siamo cambiati dopo il lockdown. Un mix di comicità esilarante fatta di canzoni, battute, monologhi, imitazioni che rapirà il pubblico in 90 minuti di spettacolo. Nel 1987 Dovì diviene noto al pubblico televisivo entrando a far parte del Bagaglino, la compagnia teatrale fondata da Pierpaolo Francesco Pingitore, lavorando accanto ad attori quali Pippo Franco, L'Ogullotta ed Oreste Lionello. A febbraio sul palco del Teatro Colosseum sarà in scena un giovane comico Chris Klan con lo spettacolo L'ultimo uomo sulla terra, dove descrive in maniera comica la sua infanzia, il rapporto con la famiglia e le sue esperienze in giro per il mondo. Tra monologhi divertenti e riflessivi accompagna il pubblico nelle sue vicende di vita che lo hanno portato a calcare il palco. Chris Modica, in arte Chris Klan, nel 2017 inizia la sua attività di videocomici virali per il web riscuotendo successi e condivisioni. Venerdì 11 marzo sarà la volta di Giovanni Cacioppo con lo spettacolo Ho scagliato la prima pietra. Lo show vuole essere un'analisi di costume e di abitudini sociali inerente alla nostra epoca, naturalmente trattate in chiave comica. Si evocano contestualmente pensieri riguardo il passato e l'infanzia che vengono ricordati come cartoline di un'altra epoca. Lo spettacolo ha una durata di 60 minuti ed è strutturato in un unico monologo. Ad aprile Paolo Migone si esibirà col suo spettacolo completamente spettinato. In questo monologo racconta l'innamoramento e l'amore riportandoli sul piano della realtà quotidiana fatta di incomprensioni, gelosie, rancori e cattiverie. In questo speaker show Migone racconta l'eterno gioco tra uomini e donne in chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva. Chiude la rassegna il 29 aprile Davide Tuse, in arte Mago Plip, con il suo Mago Plip Show. Uno spettacolo di magia concepito e realizzato fuori dagli schemi tradizionali. Al Museo Daumale di Terrasini la ricca esposizione del carretto siciliano. Stiamo vivendo un grande cambiamento epocale. Questo grande cambiamento epocale lo stiamo vivendo in questo ultimo ventennio e non è fatto solo di cambiamenti politici, ambientali, ma anche quelli culturali. Io sono una studiosa appassionata del carretto siciliano e attraverso il carretto siciliano l'ho reinterpretato secondo il mio punto di vista. Ho iniziato a dipingere, a decorare un carretto, un carro agricolo dell'area catanese e l'ho dipinto secondo il mio punto di vista. Facendo saltare la policromia ho usato i colori il bianco e l'oro. Il bianco proprio perché è l'assenza di tutti i colori e l'insieme di tutti i colori. L'oro perché è il simbolo proprio della luce. Poi all'interno ho inserito tutti quei fenomeni, quei temi che stanno, come dicevo prima, investendo il secolo. Quindi parlo dell'ambiente, parlo del concetto di identità. All'interno ho inserito la prima istituzione al mondo che è il Papa, il Papa Bergoglio, ma facendo vivere tra il religioso e il laico questo concetto di identità. E poi ho inserito anche Dante perché quest'anno si festeggia il 700 anniversario della morte del sommo poeta e quindi ho reinterpretato anche due sue opere scrivendo a rivederle sterle per una nuova vita. I ragazzi dei novizi della confraternita Maria Santissima Lauretana del Santuario di Madonna della Milicia hanno visitato il Museo D'Omallo e nello specifico il Museo del Carretto. hanno avuto modo di incontrare l'antropologa Ninetta Giambone che ci ha fatto vedere un po' l'evoluzione del carretto ma soprattutto ha mostrato loro le diversità del carretto palermitano, dal carretto catanese e nello specifico abbiamo visto il carretto bagherese realizzato dai fratelli Ducato. Chiaramente perché lo studio del carretto? Perché il carretto è presente nei quadretti votivi del museo degli ex voto del Santuario Madonna della Milicia. Questa era l'ultima notizia vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Media News. Grazie a tutti i nostri spettatori